Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati ancora una volta sul mio canale. Scusate, stavo guardando un video su YouTube di Manuel Agostini che si occupa di tecnologia applicata al video editing. Se vi interessa anche a voi questo settore, vi consiglio di vedere i video di Manuel che sono veramente molto ben fatti. Perché sto guardando quel video? Perché voglio rimettere mano al mio studio, voglio smettere di registrare in salotto, altrimenti la mia moglie mi tira il collo e insomma cerchiamo di mantenere la quiete familiare. Bando alle ciance, oggi voglio parlarvi però di una cosa molto intima. Voglio parlarvi cioè del mio regalo di compleanno, il regalo che mi ha fatto la mia moglie, quindi qualcosa di veramente intimo che voglio condividere con voi. Che cosa mi ha regalato? Beh, la mia moglie conosce la passione che ho per lo sport, in particolare per la bicicletta, e ha pensato bene di regalarvi un prodotto di una qualità e di una tecnologia altissima, un prodotto made in Italy. Sto parlando del completino della Cinelli. Voglio farvi vedere praticamente la confezione originale del regalo, non quella della Cinelli perché mi è arrivata tramite Corriere FedEx, ma questa è una confezione che non ha paragonio. Non c'è niente di più bello di questa confezione. Non posso farvi l'unboxing perché capite bene che la mia moglie l'ha già fatto scartando la confezione della FedEx, però voglio farvi vedere il completino originale made in Italy. Dopo vi dico anche quanto costa. Il design è completamente nuovo. Cinelli infatti ha ridisegnato completamente il design di questo jersey, di questo completino. ha delle cusciture aerodinamiche che lo rendano molto indicato per tutti quei ciclisti che sono attenti ai dettagli. La scerniera scorre per tutta la maglia. Lungo tutta la maglia sul lato sinistro troviamo il logo con la scritta Cinelli e invece nella parte alta del petto troviamo appunto il marchio Cinelli con l'inconfondibile C a tre colori. Stessa cosa vale per la spalla sinistra che termina con l'iride molto elasticizzato sulle maniche sia a destra che a sinistra. Anche a destra abbiamo ovviamente la scritta Cinelli che corre anche lungo la spalla. Per quanto riguarda il retro abbiamo il grande marchio della Cinelli con la parte inferiore tre tasche con inserti rifrangenti per avere una massima visibilità. Oltre la maglia però ho preso anche il pantaloncino imbottito a bretelle. Questa è la confezione della Cinelli con la scritta Cinelli e la faccina che ride e vi assicuro che dopo rideremo anche voi perché sarete molto contenti di questo prodotto che dispone di un sistema brevettato di termoregolazione e di passaggio dell'umidità. Insomma un prodotto veramente molto molto buono, molto molto competitivo. Per quanto riguarda invece i pantaloncini, anche questi a bretella, con una bretella nel posteriore a Y, eccola qua, il fondello è fatto con micro schiuma ad alta densità per garantire il massimo comfort e la massima resistenza contro le vibrazioni appunto dalla sella. Insomma ragazzi, parlarne e basta non rende, dovete provarlo, dovete comprarlo. Al tatto è veramente molto leggero, si percepisce subito la qualità e il dettaglio anche delle sezioni traspiranti che sono presenti sia sui pantaloncini che sulla maglietta. Il costo, i pantaloncini costano 119,50 euro, mentre il jersey costa 89 euro. Io ragazzi ve lo consiglio, se dovete spendere dei soldi per un prodotto italiano molto competitivo, molto tecnologico, di alta qualità, io vi consiglio di spendere i vostri soldi sul sito della Cinelli. Andate nel link che trovate in descrizione, ve lo lascio così anche voi potete guardare tutto quello che Cinelli offre. Vi ricordo che i miei cappellini sono fatti esattamente dallo stesso produttore che fornisce il materiale, anche quello tutto italiano, quindi un'altissima qualità. Comunque il discorso è sempre il solito, se dovete puntare su un prodotto italiano altamente tecnologico, io vi consiglio questo. Quindi ragazzi io vi saluto, se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale, se volete sostenere la mia community comprate uno dei cappellini della Cinelli con il mio logo e il logo di YouTube. Noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima. Ciao! 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 Ciao!